Ciao cari argonauti e bentornati sul canale. Bene, io ringrazio tutti quanti i nuovi iscritti e gli iscritti storici perché siamo per la strada verso i 700, il che non è poco. Ma comunque non ci perdiamo nelle solite ciance e andiamo ad introdurre il nostro tema di oggi. Correva l'anno 1993 e per il fumetto italiano ci sarebbe stata la svolta, soprattutto per il marchio DC Comics. Playpress ci porta nelle edicole il quindicinale di Superman. Dopo quasi dieci anni dalla scomparsa del nostro azzurrone dalle edicole, Playpress ci omaggia con questo, ci fa questo grandissimo regalo perché nonostante fosse stato pubblicato qualcosa sulla rivista Corto Martese tra cavallo tra la fine degli anni 80 e l'inizio degli anni 90, adesso invece la casa editrice romana ci porta appunto le avventure attuali in quel periodo del nostro supereroe di punta appunto Superman sulla scia della sua saga che in quel momento aveva riportato le vendite di questo personaggio veramente all'apice sia nel mercato americano ma anche in quello europeo e la stessa cosa sarebbe accaduta anche in Italia con il suo numero uno Superman dalla quale copertina si capisce già che cosa è avvenuto al nostro supereroe. Per descrivervi ciò però andremo a vedere adesso albo per albo tutta quanta la pubblicazione Playpress che inizia nel novembre del 1993 per finire nel luglio del 1999 ben 124 numeri progressivi con 119 albi fisici perché come sappiamo la Playpress condenserà le uscite estive sempre in un numero doppio quindi numerato con due progressivi due numeri progressivi quindi 119 albi ma numerati 124 devo dire che sarà la serie Playpress che detiene il record appunto del numero di pubblicazioni perché è la serie più lunga e longeva che abbia pubblicato la casa etidrice appunto durante la sua gestione DC Comics ma non ci perdiamo in chiacchiere perché le cose da vedere saranno tante quindi andiamo subito nel particolare prima di cominciare illustriamo il numero che portò appunto a stabilire la creazione di questa testata quindicinale perché tutto esordì con questo volume numero speciale da 6.000 lire la morte di Superman che la Play pubblicò in edicola tant'è che poi appuntamento il 5 novembre in edicola il numero speciale in cui c'è tutta quanta la saga appunto della morte di Superman ovvero dello scontro tra lui e il famigerato e terrificante Doomsday e di lato abbiamo tutti quanti gli autori che parteciparono a questo grandissimo evento dello stesso volume esiste pubblicarono una variant che era una speciale edizione speciale di trattura limitata per Lucca novembre 1993 con la copertina appunto originale tratta appunto dal numero di Superman in cui morì ci fu proprio l'evento della morte e poi pubblicarono anche questo numero 0 Superman novembre 1993 edizione per press e qui giace il più grande eroe della terra un numero 0 che darà il via appunto alla serie quindicinale e iniziamo con il numero 1 appunto un mondo senza Superman con questa banda nera che accompagnerà tutti quanti i primi numeri sta a significare appunto il lutto per la morte del supereroe infatti da qui si comincia con la saga funerale per un amico subito infatti successiva appunto alla sua morte questa serie conterrà al suo interno tutte le testate che allora erano pubblicate su Superman che erano veramente tantissime parliamo di Action Comics Adventure of Superman Man of Steel Superman e più tardi il verrà introdotto anche Man of Tomorrow quindi parliamo appunto di 5 serie interamente dedicate al nostro supereroe azzurro quindi cominciamo con la saga funerale per un amico il numero 1 il numero 2 guardate che belle che erano queste copertine ecco questo è il numero del funerale con tutti quanti gli eroi guardate che bella l'eredità di Superman il numero 4 il numero 5 Rinato quindi già quasi comincia a percepire qualcosa su questa saga e qui c'è l'introduzione appunto del personaggio che sarà Superboy che sarà uno dei personaggi che faranno parte della saga Il Regno dei Superman cioè ovvero quei Superman o quei personaggi che al tempo durante questa saga vogliono sostituirsi nella crociata contro il crimine e quindi uno di questi è Superboy poi ci sarà Il Superman Eradicatore Il Superman Cyborg e Steel ecco qui abbiamo Il Superman Cyborg sul numero 8 e qui abbiamo Il Superman Cyborg che distrugge appunto Il Superman Eradicatore perché poi si verrà a percepire che lui è malvagio poi questo è uno speciale Supergirl e la squadra Luthor l'ho messo qui perché è uno speciale appunto che va cronologicamente inserito tra il numero 9 ed appunto il numero 10 dove vediamo Superman ritornare con il costume nero che per allora era una novità con questo costume nero senza mantello numero 10 di questo addirittura la Play ne fece un'edizione speciale a tiratura limitata per Lucca che si teneva a marzo Lucca del 1994 con questo sfondo argentato perché in quel periodo la Play provò a sperimentare un po' quello che stava accadendo in quel periodo negli Stati Uniti ovvero presentare delle copertine Variant poi abbiamo il numero 11 ad assalto a Motor City vedete Superman insieme a Steel e poi l'ultimo numero Superman è tornato ovvero il ritorno in pompa magna del nostro supereroe quindi la sua risurrezione tornato con il costume classico ma questa volta con questo capello lungo che sarà una peculiarità che Superman conserverà quasi per tutti gli anni per tutto il decennio degli anni 90 continuiamo con il numero 13 come vedete appunto adesso si comincia a entrare in un'era in cui i disegni sono quelli classici degli anni 90 come si comincia a percepire da queste copertine Metropolis non è abbastanza grossa per entrambi quindi tutti i personaggi che erano stati introdotti nel regno di Superman comunque continuano a rimanere all'interno della città per cui ci saranno degli scontri e altri personaggi quindi si comincia a sperimentare ci saranno altri personaggi storici che torneranno ma altri anche creati appunto per l'occasione andiamo avanti questo è il numero 16 poi c'è il numero 17 all'interno Superman e Lobo una storia in cui si scontrerà con Lobo il numero 18 il numero ecco il primo numero doppio 19 e 20 il primo numero estivo del 1994 numero doppio 144 pagine 19 e 20 poi comincia la saga Mondo Bizzarro in cui Superman se la vedrà appunto con Bizzarro con il ritorno di Bizzarro ovvero il suo opposto creato dall'ex Luthor nel momento in cui lui volle cercare di clonare Superman ma questa clonazione appunto crea una versione bizzarra di Superman Mondo Bizzarro eccolo qui sul numero 21 poi il numero 22 di Guardiani di Metropolis abbiamo Superman e Guardian poi abbiamo il numero 22 in edizione speciale libreria questa è un'altra variante che è uscita a tempo soltanto nelle fumetterie sempre il numero 22 che questa volta ospita la copertina di Superboy il numero 23 e il numero 23 sempre edizione speciale libreria solo per fumetterie proseguiamo con il numero 24 potere al parassita quindi anche il ritorno del parassita nemico storico del nostro Superman numero 24 speciale libreria interessante ripeto come la play press in quel periodo voglia agevolare incentivare ecco non mi viene al termine l'acquisto anche dell'edizione nelle fumetterie perché proprio in quegli anni cominciavano a nascere a fiorire le varie fumetterie sul territorio sul nostro territorio nazionale il numero 25 Metropolis la fine appunto inizia appunto la saga della battaglia di Metropolis fino al numero 25 sempre speciale libreria battaglia di Metropolis il numero 26 progetto guardiano il numero 26 sempre speciale libreria con la copertina dedicata a Superboy la caduta di Metropolis quindi la distruzione di Metropolis perché qui ci sarà una battaglia tra Superman e dei personaggi che poi arriveranno mi sembra da un'altra dimensione perché io l'ho letto quasi 30 anni fa questa saga per cui mi sembra di ricordare di ricordare ciò il numero 27 speciale libreria guardate che bella questa copertina tutta disegnata da John Bogdano e poi abbiamo appunto la saga ci fu appunto questo crossover tra la DC Comics e la Milestone che era un'altra casa di produzione di altri supereroi americana in cui ci fu appunto la saga Mondi in collisione appunto Superman si scontrò con eroi e personaggi che venivano da un'altra dimensione e ci fu appunto la distruzione e Metropolis insomma ne risenti ne risenti molto a livello di danni speciale libreria del numero 28 sempre con il parassita e Superboy il numero 29 sempre la caduta di Metropolis con all'interno la saga Mondi in collisione sempre la caduta di Metropolis con il numero 30 il numero 31 Mondi in collisione prosegue vedete appunto Superman e i suoi collaboratori insomma i suoi compagni i suoi che si scontrano con altri personaggi e poi il numero 32 Mondi in collisione Superman nel crevaccio e questo dovrebbe essere l'ultimo l'ultimo atto di questo di questo crossover ecco c'era l'altro appunto numero il numero 33 sempre con Mondi in collisione Massacro a Metropolis proseguiamo Massacro a Metropolis con il numero 34 dove finisce appunto la saga dei mondi in collisione con appunto la conclusione scusate il gioco di parole poi qui abbiamo una storia in cui c'è ospite Batman e il numero 35 poi il numero 36 da qui cominciano i numeri relativi all'evento ora 0 appunto sul numero 36 dove ci sono i tie-in collegati al grande evento ora 0 di quell'anno il numero 37 il numero 38 guardate che è bella questa copertina è il numero 39 con il numero 40 comincia la saga della seconda seconda morte con il ritorno di Brainiac che era un cattivissimo per eccellenza dopo diciamo l'ex Luthor il cattivissimo per eccellenza il nemico per eccellenza di Superman qui contro l'eradicatore eccolo qui Brainiac lo vedete seconda morte appunto e qui c'è il secondo numero doppio della serie il numero 43 e 44 dell'estate del 95 numero doppio il corpo del reato seconda morte di nuovo seconda morte scontro finale qui finisce la saga con Brainiac proseguiamo con il numero 46 vampiri ed ora il dragone la notte dei cento ladri il numero 47 il numero 48 con questa stupenda copertina disegnata da Jurgens e all'interno contenente Superboy poi abbiamo il numero 49 si riconoscono i disegni di Stuart Tim Mullen e il numero 50 agenti della libertà all'interno acciaio perché qui dovete sapere che all'interno come accadeva in quegli anni all'interno della testata di Superman oltre Superman venivano ospitati appunto le storie di Supergirl di Superboy e di Steel di acciaio appunto il numero 51 il segreto della rinascita di Metropolis nel durante Metropolis dalla saga dei mondi in collisione viene comunque ricostruita il numero 52 Guy Gardner scatenato qui Superman contro un Guy Gardner che era diventato aveva acquisito nuovi poteri nella saga di Ora Zero comincia la saga con un numero speciale di 80 pagine della morte di Clark Kent Clark Kent è morto chi è il prossimo all'interno numero storie di Steel ovvero di acciaio il numero 55 ancora con la saga della morte di Clark Kent il numero 56 il numero 57 ok sotto a chi tocca questa mano mi viene sempre un po' forviato sembra quasi che faccia il dito medio poi andiamo sul numero 58 il ritorno di Lex Luthor ecco qui infatti debutta la nuova serie dell'Uomo d'Acciaio che sicuramente fu Man of Tomorrow e parte il nuovo trimestrale americano Superman è esatto The Man of Tomorrow come vi avevo già anticipato prima il numero 59 pressione il numero 60 con all'interno Steel e il numero 61 numero 62 con abbiamo che daranno filo da torcere a Superman addirittura Cyborg Lenk che deriva appunto dalla versione Cyborg di Superman che era diventata diciamo malvagia e un Darkseid spietato più che mai il numero 63 abbiamo un Superman che è molto molto dark alla Batman che vola nella notte di Metropolis il numero 64 con l'anterna verde di allora insomma l'attuale lanterna verde di allora che non era al Jordan ma Kyle Ryan e poi abbiamo di nuovo il parassita che ritorna guardate quanto è surreale e terrificante questa copertina e poi comincia la saga del processo a Superman il numero 66 ospite d'onore Marcy Amman Hunter processo a Superman che si dipana sul numero doppio 67 68 speciale estivo e poi il numero 69 processo a Superman con questa strana copertina in cui Superman combatte contro una specie di pirata spaziale infatti i pirati del cielo e poi abbiamo all'interno del numero 70 questa bellissima copertura copertina così emblematica l'annual del 1995 di Superman ospitato in questo numero poi abbiamo il numero 71 il numero 72 il numero 73 guardate qui c'è tutta la Justice League il numero 74 il processo è finito quindi la fine del processo a Superman e il numero 75 questa bellissima copertina guardate quanto erano belle le copertine di allora mi piacevano tantissimo ogni volta che andavo in edicola e vedevo una copertina del genere mi emozionavo tantissimo perché erano molto emblematiche il numero 76 con ospite d'onore Batman questa una mia curiosità personale mi ricordo che quando uscii un paio d'anni prima un anno prima lo trovai in originale in fumetteria e me lo comprai perché mi piaceva tantissimo la copertina e poi vedi che c'era Batman per cui non potevo esimermi da prenderlo e poi uscii finalmente anche anche in Italia e abbiamo il numero 77 con ospite Plastic Man che in quel periodo campeggiava all'interno della formazione della Justice League il numero 78 ospite d'onore c'era Impulso l'aiutante dell'ora del Flash Wally West e poi comincia un declino del rapporto di fidanzamento tra Lois e Clark perché come sappiamo in queste storie qui in questo periodo Lois era a conoscenza della doppia identità di Clark Kent di Surdy e Superman tant'è che poi si fidanzarono per cui sono stati insieme per tanto tempo ma qui comincia il declino del rapporto di fidanzamento il numero 80 il numero 81 con questa copertina molto molto spiritosa molto divertente un'insolita fortuna con tutte con tutti i luoghi comuni della della sfiga della della sfortuna appunto quindi il ferro di cavallo il passaggio sotto la scala il pepe il sale il pepe che cade lo specchio rotto il gatto nero e il numero 13 un po' di tutto ecco qui appunto un'altra copertina emblematica sulla rottura tra Superman e Clark quindi e Lois qui è interessante che si vede una vecchia una vecchia copertina degli anni 80 strappata con questa centrale ridisegnata in cui loro diciamo stavano insieme ma lo strappo e loro separati poi qui una bellissima copertina in cui ci sono una mezza copia di Hulk sembrerebbe quasi ed il parassita e qui abbiamo l'ex Luthor con la moglie il numero 84 si prosegue il numero 85 il numero 86 Lois lascia Superman Lois parte da parteva via da Metropolis e lascia il nostro azzurrone da solo numero 87 ossessione letale si riconoscono subito i disegni di Stuart e Imonen proseguiamo con il numero 88 la tragedia di Candor quindi storia ambientata in Candor la città di Impiccionina e su questo numero arriva Supergirl quindi come vi dicevo cominciano le pubblicazioni del ciclo di Supergirl andiamo avanti con il numero 89 tra i rinfi dello sciacallo il numero 90 il numero 91 92 altro numero doppio altra estate come vedete quindi con la foliazione maggiorata e questo presenta il tie-in del crossover l'ultima notte che uscì proprio in quell'estate abbiamo la ricerca di Lois Lane qui ospite l'onore Wonder Woman sul numero 93 il numero 94 invece è un numero importante perché oltre ad avere una foliazione maggiore è un costo chiaramente maggiore 5.000 lire rispetto alle 3.500 delle uscite normali l'album del matrimonio ovvero la storia in cui Clark e Lois si sposano e per l'occasione Clark Kent e Superman si tagliano i capelli quindi tornano ad essere finalmente come prima come la classica rappresentazione che fu del personaggio quindi spariscono i capelli lunghi di Superman e torna ad una capigliatura composta il numero una particolarità di questo di questo numero è che se non sbaglio fu il settembre del 96 no scusate del 97 e in quel mese tutte le testate pre-press all'interno degli albi contenevano una partecipazione alle nozze di Superman era proprio a metà dell'albo dove c'era la spillatura c'era proprio la partecipazione e l'invito alle nozze di Clark e Lois era una cosa una cosa carina invece mia diciamo giudizio critica personale in quel periodo la repress purtroppo sostituì il classico logo di C-Comics con il loro così e questa cosa sinceramente non mi piacque molto ma fortunatamente tornarono poi sui loro passi forse perché forse probabilmente era dalla casa principale d'oltreo c'era perché effettivamente così non sponsorizzavano e non pubblicizzavano il marchio di C-Comics nonostante lo scrivessero in piccolo qui sotto ma comunque non era ben identificato piccola parentesi chiusa numero 95 luna di miele horror chiaramente i nostri non potevano avere una luna di miele tranquilla per carità il numero 96 dove c'è come ospite la legione dei supereroi il numero 97 con questa bellissima copertina dove lui rindossa lo stupendo costume nero derivante appunto dalla saga del regno di superman quindi dalla risurrezione di superman post morte il numero 98 il numero 99 squadra anti superman per poi arrivare al numero 100 importantissimo in cui purtroppo però la play non ci degnò né di una variant né di una copertina speciale ma semplicemente una copertina così normale questa fu la politica in vigore in quel momento nella pre-press purtroppo non pubblicava più edizioni speciali edizioni variant questo fu un peccato perché questa è stata l'unica serie DC Comics che ha raggiunto e superato la centesima unità numero 101 quindi scavalchiamo il ritorno di Fornace uno di quei personaggi inventati ad hoc proprio per quel periodo poi andiamo sul numero 102 con questa bellissima copertina disegnata da John Bogdano in cui vediamo un Clark Kent seduto alla scrivania del Daily Planet intendo a leggere appunto una copia del Daily Planet più bello di così più emblematico di così non si può il numero 103 in cui si comincia a percepire che in vista all'orizzonte c'è un cambiamento radicale per Superman una nuova moglie nuovi poteri una nuova casa ma soprattutto nuovi poteri nuovi poteri guardate un po' e si cominciò a percepire il cambiamento che avrebbe avuto Superman in quel periodo il numero 104 vediamo Superman ancora nuovi poteri nuovi cambiamenti e quindi perché perché sul numero 105 ci porta appunto alla famosissima e molto discussa saga del Superman di energia oppure Superman elettrico l'inizio di una nuova era addirittura ne parlarono i telegiornali italiani di questo di questo evento mi ricordo al tempo il TG5 e il TG1 mi ricordo fecero addirittura un servizio su questo evento appunto il cambiamento di Superman che per la prima volta dalla sua nascita cambiò i poteri e divenne elettrico ci fu appunto il cambiamento del Superman di energia con questa famosissima copertina che è diventata molto emblematica nel tempo molto eloquente significativa anche se conserva ancora dei dubbi almeno per quanto mi riguarda sulle proporzioni guardate la testa il petto il busto e le gambe come sono sottili e un po' sproporzionate nonostante ciò fu la copertina che fu scelta appunto per il cambiamento e da allora cambiamento di poteri di costume ma soprattutto anche di font quindi da allora per un periodo abbastanza lunghetto Superman cominciò ad adottare questa scritta e come vi avevo detto dal numero precedente probabilmente forse anche in vista di questo evento la Play riportò il bellissimo logo di C Comics nel corner box e quindi cominciamo con la saga del Superman elettrico metallo fuso Superman si scontra con metallo quindi con questi con i suoi nuovi superpoteri Superman ospite d'onore Atom storia incentrata all'interno di Kandor la città in miniatura Superman numero 108 Superman numero 109 il segreto della Bat Caverna in cui c'è come ospite d'onore Bat Batman chiaramente e si parla dell'anello di Kriptonite che Batman conserva all'interno della Bat Caverna chi sta rilurando dei criminali per vendicarsi ecco qui Superman che si scontra contro Bode lei e Bode quindi cominciano ad arrivare anche i nemici alla portata dei suoi superpoteri come vedete queste copertine strizzano un po' l'occhio a quelle vecchie degli anni degli anni 60 se vogliamo con tutte queste scritte in copertina di G2 e tutte queste compartimentazioni e tutti questi personaggi ritratti qui abbiamo tutti i costumi indossati da Superman in questo numero tutti quelli che ha indossato nella sua storia editoriale nel numero 111 Superman 112 Stuart in Mon prosegue l'epopea del Superman di energia Superman 113 114 dell'agosto del 1998 altro numero doppio poi abbiamo il numero 115 del settembre del 98 il numero 116 poi qui viene inserita questa storia Superman rosso Superman blu che non fu pubblicata all'interno del quindicinale nonostante cronologicamente è una storia relativa al Superman elettrico ma fu pubblicata in Play Magazine numero 32 dell'ottobre del 98 ma cronologicamente va inserita qui e appunto ci parla dell'introduzione del Superman blu del Superman rosso ovvero il Superman di energia si sdoppia in due Superman il Superman blu e il Superman rosso che poi saranno insomma faranno appunto capolino all'interno delle storie del nostro azzurrone tant'è che vedete appunto sul numero 117 ci sarà Superman rosso vs Superman blu con questa stupenda copertina magnifica copertina qui appunto abbiamo due racconti titanici di Superman vedete come riemergono un po' le grafiche delle vecchie copertine degli anni 60 insomma queste divisioni tutti questi strili balloon all'interno spettacolare avventura in lotta contro i guardia del millennio i guardiani del millennio perché praticamente i due superman dovranno combattere contro i giganti del millennio che sono due entità gigantesche che sono uscite dal sottosuolo e che minacciavano appunto il pianeta a terra e i due superman alla fine si dovranno unire si dovranno questo intanto dal 119 poi il 120 si dovranno unire insieme agli altri supereroi della terra per combattere contro questi giganti del millennio e sacrificarsi per salvare appunto la terra tutti e due si dovranno unire e sacrificarsi per salvare la terra cosicché appunto potranno sconfiggere questi giganti del millennio che minacciavano appunto l'equilibrio del pianeta a terra tutto questo riporterà indovinate un po' e tutto ciò ci porta appunto a superman per sempre la mini che ci presenta il ritorno del nostro azzurrone come criptoniano con i suoi poteri che tutti noi conoscevamo conosciamo però come è successo con superman rosso e superman blu playpress non ce lo pubblica all'interno dello spillato regolare ma ce lo pubblica all'interno del numero 11 di playpress presenta questa collana di brossurati da ericola contenitore che presentavano all'interno vari cicli e varie storie e varie storie quindi cronologicamente dopo il 100 il 121 dobbiamo leggere il numero 11 di playpress presenta con questa storia con le copertine curate da Alex Ross guardate che bella per poi passare per poi passare al numero 122 con il nostro superman nelle sue condizioni naturali normali salvare il planet una storia in cui tutti devono immolarsi per riuscire a non far chiudere il daily planet si passa al numero 123 del giugno del 1999 per temporeggiare prima di arrivare ai ta-in alla saga di quel periodo con questa storia fuori continuiti fuochi lontani una storia fuori fuori continuiti particolare per il nostro azzurrone però ad oggi ancora non mi spiego per quale motivo la play utilizzò il font del superman del superman elettrico di energia quando invece la storia normale la copertina della storia normale presentava il font classico comunque questa storia di superman 123 del giugno del 99 per poi arrivare alla ahimè conclusione di questa avventura con il numero 124 125 numero doppio dell'estate del luglio del 1999 che presenta appunto il ta-in le storie collegate al maxi evento scritto da Grant Morrison ovvero One Million eccolo qui con queste copertine con questi font futuristici perché come sappiamo o se non lo sappiamo lo dico io One Million era una storia incentrata soprattutto un milione di anni nel futuro quindi era una c'era questo scambio d'eroe tra quelli di un milione di anni in futuro e quelli del presente e così si conclude la l'avventura dello spillato quindicinale e poi dopo successivamente mensile del nostro azzurrone per poi ricominciare con una nuova serie ma quella è tutta un'altra storia ebbene caro Ergonauti io spero che questo video sia stato di vostro interesse e di intrattenimento che vi sia piaciuto che abbia fatto anche un po' luce sulla pubblicazione di Superman negli anni 90 tramite appunto la casa editrice Playpress casa editrice romana e di nuovo mettete un like al video se vi è piaciuto condividetelo commentate soprattutto ma soprattutto iscrivetevi al canale consigliate altri vostri amici o altri vostri conoscenti iscrivetevi al canale perché insieme passeremo tanti altri momenti di interesse per quanto riguarda appunto le nostre passioni quindi io vi ringrazio ancora e ci vediamo al prossimo video ciao ciao